Ciao ragazzi, bentornati nella serie con le mod Allora, ho iniziato, ho continuato nel frattempo a costruire il nostro bel palazzone Sono stati in miniera, guardate quanti blocchi ho fatto, ho fatto anche un sacco di carbone Che finalmente ci serviva Allora, ho iniziato a costruire il templio di Erobrine Allora, questo mondo, tutte queste costruzioni in teoria sono destinate a una brutta fine Dato che, da quello che so, una volta che evocheremo Erobrine Questo mondo è destinato a una dolce e veloce fine Insomma, una volta che avremo evocato Erobrine sarà veramente la fine del mondo Ed è storto Già Sarà proprio la fine del mondo E quindi ci dovremmo aspettare Un lungo periodo Di distruzione Insomma, sarà veramente un brutto momento E come ho detto, appunto Così finirà la serie Quando evocheremo Erobrine Però prima di evocarlo Prima che ci sia la fine del mondo Intenzio innanzitutto di fare questo templietto qua Dove mettere Erobrine Allora, prima vi faccio vedere come ho sistemato Qua ho fatto la sala delle fornaci Qua la sala delle cose Quelle per fare le pozioni Qua la sala della pietra Qua sto facendo la sala dell'enchanting table E qua vedrò adesso che fare Nel caso mi faccio una piscina Allora Quello sarà l'ultimo episodio Che faremo Di questa serie E poi ho intenzione di iniziare una nuova vanilla Dato che questa doveva essere una vanilla Ma per colpa di Erobrine Non lo è stato E quindi Insomma Ora non so se Ho fatto il tetto enorme Senza alcun senso Perché adesso Farò il tetto normale Quello Vabbè Fa niente Allora Ecco avevo intenzione di fare tutto il tetto così Spiovente ma in modo strano Ora vi faccio vedere Partendo così Ogni lato Sarà un templio Molto Molto strano Vabbè Tanto È il templio di Erobrine Direi che È giusto Che sia così strano Insomma Sto parlando Del Di satana di minecraft Insomma Quindi Allora Qua Costudiremo poi La nostra reliquia di Erobrine Che è la sua testa Che penso che Ora Non so che serva Poi mi andrò Un po' a documentare A che cosa servirà Ho paura ancora Qualcuno Me la venga a rubare Però Finché Non me la rubano Finché Non me la rubano Insomma Ce la teniamo Allora Che se me la dovessero rubare So cazzi È finito il mondo Allora È più alto Dell'altro Ah no No è più alto Vabbè E tanto Sto mondo È destinato a fare Una brutta fine Quindi Sti cazzi Allora Dicevo Allora Allora Stavo raccontando No Quindi Erobrine Dobbiamo Lo evocheremo Però Non Non ora Ho perso il filo Del discorso Scusate O siete Devo prendermi Una bottiglia D'acqua Quando registro Lo faccio sempre Tranne oggi Allora Ora Stavo pensato Di tornare Di nuovo Nel Nel Nether Per Andare a prendere Le blaze road Ora Aspettiamo la notte Perché ho bisogno Dei Come cacchio Si chiamano Degli enderman Ecco Scusate ragazzi Sto un po' messo male Perché Mi servono Sia le enderperd Che gli enderai Ma Mi servono parecchi Quindi staremo un bel po' Allora Mi sono allenato Ad uccidere il drago In questi giorni E non ce l'ho fatta Ho fallito ogni volta Quindi insomma La parte più difficile Quando devi Puntare con le frecce No Allora Finiamo questi blocchi E ci buttiamo Si ragazzi Come ho detto Il tetto viene male Ma tanto Quello che ho detto No Sto mondo è destinato A una Brutta fine Quindi Sti gran cazzi No Non me ne frega niente Ormai Tanto sappiamo Che questo mondo È destinato Alla fine Quindi Prepariamoci Ok Allora Andiamo giù E iniziamo A combattere Con magari Degli enderman Che magari ci fossero Questo è il vero problema Che magari ci fossero È stato orribile Tanto è il Tempile di Aerobank No no Tu Tu non mi servi Tu non mi servi Nemmeno tu Eccolo Eccolo Vieni Ti ho visto Si Dov'è Dove sei Dove sei Fatti vedere Dov'è È morto No È qua Muori Si Viva Ok Andiamo avanti Ehi tu Non ci sei più Ok Ah Mi ho voluto È bello che il portale È sceso No C'era un enderman C'è un enderman T'ho visto T'ho visto T'ho visto Eh no Tu 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 Parisci Dalla mia vista Ok Ti sto guardando Ti sto guardando Ah Tu 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 Non c'è niente In questo combattimento Sto perdendo vita Si è morto Enderpearl Si Mangio Oh Zio Giuseppe Che è stato Ah ma Sono due Ah tu Mi Mi hai scassato Via Morto Tu Aspetta che devo recuperare un po' di vita Tu muori così allora Con le tue stesse frecce Cretino Un Cracker Un altro Cracker Allora tu mi hai scassato Levati Grazie Purtù Muori Ma ci sono altri Skeleton Sio Giuseppe Oh Oh Purtù Alla Allora Chiariamo le situazioni Sono più forte io Va bene Se non piano mi sta avvicinando E non è che ti sto facendo tanto Vendomi Avangu Che non ho più roba nell'inventario Meglio così Ma le frecce mi servono Dovrei liberare un po' l'inventario Ma le ho prese l'enderpearl Sì Allora Tu Levati Magari Via Grazie Mi serve Allora un altro Minimo Una decina di enderman Mi metterò qua a farmare No Chi mi ha fatto saltare la mia pentagione Chi ha usato Fare questo A me La mia pentagione Vabbè Allora 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 Lascio un po' di cose E Torniamo un po' Questo 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 A questo punto Questi li andiamo a lasciare Nel loro cesto Tu vai qua Ottimo Ottimo Sì Ho detto benissimo Scusami Paolo Se l'ho detto male Ragazzi Scusatemi E' tardi Non ci capisco più niente Allora Qua ci sono robe Qua ci sono robe Qua Lasciamo le frecce Ma quante cacchio di frecce Stiamo farmando Nell'ultimo periodo Zio Giuseppe Zio Giuseppe Che sto insulto Che mi sto inventando Oddio Un saluto a tutti gli zii Giuseppe Tra l'altro mio zio si chiama Giuseppe Quindi un saluto a mio zio Ciao zio Un bastone No No Pio No No bro E ma vi siete tramandati Di padre in figlio Le metto in uro E dai E dai E dai Sbaglio Quella pioggia Sono più forti Ma solo scheletri ci sono Ma un cacchio di Enderman Cioè Zio Pongolo Mi ha droppato No Zio Giuseppe Basta Se mi facevi saltare in aria La base Ti uccidevo la madre Te la facevi esplodere Oddio Pur la pioggia Si è messo E tu che cazzo sei Aiuto Oddio 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 Questo è di aerobrine Ah no Ok Della mod di Ok 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 Questo non era di aerobrine Ancora Ok Sceletri Basta 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 Torniamo Eh In base In base In base In base A quale cosa Non lo so Dentro Ok Che quel robo Non l'avevo mai visto Quel robo Non l'avevo mai visto E va bene ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se non vi è piaciuto Vi trovo un pugno E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Grazie a tutti